Ciao ragazzi qui Marco Agustoni di Illustrator Startup.com in questo nuovo video vi parlerò delle tecniche di colorazione all'interno di Illustrator e lo farò mostrandovi i diversi strumenti messi a disposizione dal software Allora dovete sapere che all'interno di Illustrator abbiamo più modi per colorare i nostri tracciati vediamo quali sono Allora il primo metodo che è anche quello più semplice per colorare le forme vettoriali chiuse consiste nell'applicare colori di riempimento e di traccia scegliendoli all'interno dei relativi selettori che troviamo qui nel pannello strumenti di sinistra dunque è molto semplice basta selezionare la forma da colorare attivare il selettore colore relativo al riempimento o alla traccia fare un doppio clic su quest'ultimo e all'interno di questo spettro colori di questa finestra di opzioni andare a selezionare il colore che desideriamo quindi andiamo a selezionare un bel giallo facciamo clic su ok e a questo punto la forma verrà riempita eventualmente potremo anche salvare questo colore all'interno di una libreria all'interno del pannello campioni ok quindi andiamo ad espanderlo qui troviamo già una serie di colori predefiniti una serie di colori salvati potremmo eventualmente applicare un altro colore ok da qui oppure direttamente prendere il nostro colore impostato in precedenza e creare un nuovo campione quindi inserirlo all'interno di questa libreria per poterlo richiamare in qualsiasi occasione quindi possiamo fare clic su nuovo e creare il nostro campione colore sulla base di quello scelto all'interno di questo spettro quindi questo è sicuramente il primo modo per colorare delle forme all'interno di illustrator ovviamente adesso ho inserito un colore di riempimento ma avrei potuto modificare anche il colore di traccia ovvero il contorno della forma quindi posso selezionare il selettore colore relativo alla traccia e andare ad applicare per esempio un azzurro passiamo adesso al secondo modo per colorare all'interno di illustrator allora dovete sapere che abbiamo la possibilità anche di applicare oltre che a dei colori a tinta unita come abbiamo appena visto delle sfumature, dei gradienti per farlo possiamo sfruttare lo strumento sfumatura che si trova qui nel pannello strumenti di sinistra e che con un doppio clic consente l'accesso al relativo pannello dentro il quale possiamo andare a personalizzare le nostre sfumature quindi vediamo come inserire una sfumatura all'interno di questo quadrato selezioniamo la forma, andiamo ad attivare il selettore colore relativo al riempimento perché vogliamo applicare una sfumatura all'interno della forma e andiamo a cliccare qui su questo riquadro che ci permette di andare ad aggiungere una sfumatura lineare che va dal bianco al nero ovviamente all'interno di questo pannello potremo poi andare a personalizzare la nostra sfumatura questo pannello tra l'altro l'ho approfondito molto bene all'interno di Illustrator Startup quindi se volete approfondire il software vi invito prima di tutto a fare un clic sul link in descrizione comunque dicevo che all'interno di questo pannellino possiamo andare a modificare, a personalizzare il nostro gradiente quindi qui possiamo modificare la tipologia di gradiente lineare, radiale e adesso vedremo anche che nella recente versione di Illustrator è stata introdotta una nuova sfumatura e poi qui con questo cursore possiamo andare ad aggiungere nuovi colori quindi potremo andare ad aggiungere un giallo e andare quindi a personalizzare la nostra sfumatura dicevo possiamo passare da una sfumatura di tipo lineare ad una sfumatura radiale che si estende in direzione del raggio dovete anche sapere che nella versione 2019 del software è stata introdotta questa nuova tipologia di gradiente che è chiamata Freeform o a mano libera che ci permette di inserire all'interno della forma questi punti questi punti di colore che ci consentono di andare a realizzare delle sfumature complesse e ovviamente questi cursori li potranno essere spostati all'interno della forma andando a miscelare più colori assieme quindi qui potrei fare un doppio clic, modificare questo colore e creare degli effetti molto molto carini passiamo adesso alla terza tipologia di strumento che ci consente di colorare una forma all'interno di Illustrator sto parlando della trama che è forse il metodo di colorazione più complesso di Illustrator ma è sicuramente quello che vi consentirà di realizzare anche effetti fotorealistici lo strumento trama si trova qui nel pannello strumenti di sinistra ed è attivabile anche tramite il tasto U e una volta selezionata la forma e attivato lo strumento possiamo fare un clic all'interno per andare ad inserire una sorta di reticolato che possiamo espandere in questo modo quindi possiamo andare ad inserire diversi punti ai quali possiamo andare poi ad associare diversi colori quindi attraverso sempre il pannello campioni potremmo andare a selezionare questo punto e applicare un colore nero invece a quest'altro potremmo applicare un colore giallo quindi andare ad applicare ai nostri vari punti un colore diverso in questo modo potremmo ottenere anche degli effetti come ho detto prima fotorealistici per quanto riguarda questo strumento ci sarebbero un sacco di altre cose da dire perché è sicuramente uno dei tool più complessi di Illustrator e proprio per questo l'ho approfondito dettagliatamente all'interno del corso completo per il quale come vi ripeto troverete tutte le informazioni nel link in descrizione passiamo adesso a un altro metodo di pittura molto interessante che possiamo sfruttare all'interno di Illustrator sto parlando della pittura dinamica e ti spiego rapidamente in che cosa consiste detto in parole povere possiamo prendere un qualsiasi disegno vettoriale e convertirlo in un gruppo di pittura dinamica questa conversione andrà di fatto a generare delle aree che potremo riempire rapidamente con un clic allora vi mostro rapidamente come funziona quindi supponiamo di avere questo disegno vettoriale ok di volerlo colorare andiamo quindi a convertire questo oggetto in un gruppo di pittura dinamica quindi andiamo su oggetto pittura dinamica crea diamolo ok a questo punto tramite il tasto k potremmo attivare il secchiello che è uno strumento appunto relativo sempre alla pittura dinamica selezionare un colore qui nel pannello campioni per esempio un giallo e andare a riempire con un click o con un click e un trascinamento tutte le aree di nostro interesse ok quindi questa è sicuramente una funzione di colorazione molto interessante che ci consente di andare a riempire rapidamente gli spazi e quindi a colorare le nostre illustrazioni in modo molto molto veloce anche per questo strumento trovate diverse lezioni anche qui su youtube gratuite ma se lo volete approfondire nel dettaglio vi conviene sempre accedere al mio corso illustrator startup ok adesso passiamo a un'altra tecnica di colorazione che in realtà non è proprio una tecnica ma ho deciso di affrontarla comunque perché a mio avviso merita di essere citata allora dovete sapere che in illustrator possiamo dare vita a dei pattern ok e quindi possiamo farlo a partire da un elemento vettoriale che verrà ripetuto all'infinito quindi possiamo per esempio prendere questo elemento andare su oggetto pattern crea a questo punto verrà aperta questa finestra di opzioni dentro la quale potremo andare a modificare una serie di parametri relativi al nostro pattern in questo caso il pattern è già stato generato automaticamente potremo però andare ad aumentare gli spazi in orizzontale e in verticale tra un elemento e l'altro ok torniamo un attimo indietro ok e una volta ottenuto il nostro pattern potremo chiudere questa modalità di modifica ok eliminare l'elemento creare una qualsiasi forma vettoriale come per esempio un triangolo ok e andarla a riempire con il nostro nuovo pattern che troveremo all'interno del pannello campioni perfetto parliamo adesso dell'ultima tecnica di colorazione presente all'interno di illustrator sto parlando del pennello tracciato chiuso che è uno di quei tool poco conosciuti e poco sfruttati forse anche perché in pochi sanno che consente di colorare esattamente come se avessimo in mano un pennarello quindi questo è molto interessante adesso vi mostro come funziona allora lo strumento innanzitutto si trova qui sotto lo strumento pennello ok qui abbiamo lo strumento pennello tracciato chiuso lo possiamo selezionare e supponiamo di voler colorare questa forma allora prima di tutto andiamo a creare un nuovo livello che spostiamo sotto il livello principale che contiene questo tracciato a questo punto con lo strumento attivo andiamo a selezionare un colore qui all'interno del nostro selettore relativo al riempimento selezioniamo magari un rosa e iniziamo con il nostro pennello a riempire il viso di questa illustrazione allora ora posso rilasciare il tasto sinistro del mouse e come potete vedere selezionando il tracciato con lo strumento di selezione lo strumento pennello tracciato chiuso a differenza di tutti gli altri come per esempio lo strumento pennello, la penna, la matita eccetera eccetera non andrà a creare una traccia bensì andrà a creare un tracciato vettoriale chiuso ok con il colore di riempimento applicato in precedenza quindi qui abbiamo riempito la prima parte del viso potremmo adesso con l'elemento attivo proseguire quindi andare a chiudere e a colorare definitivamente l'area ecco possiamo anche eventualmente con un doppio clic sullo strumento andare a modificare la dimensione di questo pennello e andare così a riempire più velocemente l'area desiderata chiaramente questo essendo uno strumento da utilizzare a mano libera risulterà più facile utilizzarlo in abbinata ad una tavoletta grafica in questo modo potrete essere molto più precisi e sicuramente più rapidi nel lavoro bene, quelli appena elencati sono dunque tutti gli strumenti di Illustrator che vi permetteranno di colorare le forme ovviamente ognuno di questi andrebbe approfondito e spiegato nel dettaglio dentro il mio corso completo Illustrator Startup troverete gli approfondimenti di tutti questi strumenti oltre che ad un modulo interamente dedicato al disegno e alla pittura quindi vi ripeto che se volete approfondire il software potete fare clic sul link in descrizione e troverete tutte le informazioni per poter accedere al corso completo